buonasera a tutti abbiamo ospite in studio questa sera con noi il dottor luciano pasquale che è il presidente della camera di commercio che raggruppa insomma le economie della nostra città della spezia con savona e imperia il dottor pasquale ha un osservatorio a questo punto particolarmente significativo della economia della nostra regione una regione che in cerca di aspira ha delle aspirazioni di ovviamente migliorare la propria economia di aprire nuovi mercati e però vogliamo partire proprio dalla fotografia dell'economia di questa regione dottor pasquale come sta la liguria ma la liguria sta bene però ha bisogno di cure ha bisogno di essere messa sotto una azione strutturale di cambiamento e di miglioramento che vuol dire prima di tutto rafforzare le sue eccellenze e rafforzare i tanti componenti della sua economia che hanno enormi potenzialità da sviluppare e dall'altra parte dobbiamo recuperare i gap recuperare i gap che per le imprese stanno diventando mortali li portano al soffocamento il primo grosso quello delle infrastrutture speriamo che la questione del ponte morandi sia solo una un fatto congiunturale che dura almeno possibile però finchè non si aprono i cantieri non si può avere una una visuale su su quando finirà questo questo che è davvero una penalizzazione perché la liguria spaccata in due è diventata 100 chilometri più lunga su 250 normali di geografia e questo è uno dei poi c'è il terzo valico ci sono i completamente dei raddoppi ferroviari insomma le infrastrutture primo secondo sulle imprese noi stiamo lavorando anche per favorire la digitalizzazione abbiamo un numero di imprenditori e che troppo elevato quasi 40 per cento che ancora non vede nell'in internet nella rete nella digitalizzazione un elemento di competitività di sviluppo della propria impresa quindi dobbiamo aiutarli ad acquisire questa consapevolezza e l'altro gap che su quale stiamo lavorando non solo noi ma sicuramente il camere di commercio ma anche la regione anche i comuni è quello di mettere in relazione le professionalità dei giovani che escono dalla scuola media superiore e dall'università con il fabbisogno professionale delle imprese in questo momento noi ci troviamo con imprese che cercano persone qualificate non le trovano e i giovani che cercano lavoro e fanno fatica a trovarlo qui magari vanno a cercarlo dall'altra parte ecco allora su questo è necessario lavorare con una certa attenzione devo dire che sulle tre province spezia è quella che in questo momento ha indicatori migliori ha indicatori migliori quindi è una le sue componenti delle economiche quindi i motori dell'economia spezzina che sono il porto sono la blu economy sono il turismo e sono l'agricoltura stanno tenendo i giri elevati che avevano in questi ultimi due tre anni dalle altre parti si sente un po più la crisi sono proprio la crisi sono magari realtà industriali che hanno problemi seri oppure c'è una penso a imperia c'è una zona in debolita dalla perdita di importanti realtà produttive che viene depauperata dalla da un minimo di situazione di crisi generale quindi è una liguria che comunque ha potenzialità enorme e bisogna però intervenire molto rapidamente con le cure giuste una questione che viene subito alla memoria quando lei ha fatto questo ragionamento quindi una liguria che è in crescita nella ricerca anche di nuovi di nuovi spazi nei quali crescere è la questione dell'accesso al credito che noi ogni tanto sentiamo appunto ecco il ruolo del credito in in questa situazione è un credito accessibile o non si preoccupa di aiutare molto l'impresa allora il credito è accessibile per certi aspetti tenuto conto che da alcuni anni noi abbiamo un livello di tassi di interesse molto basso e questo teoricamente dovrebbe favorire gli investimenti quindi la richiesta di prestiti da parte delle imprese per fare investimenti questo in parte avvenuto e in parte meno perché nel frattempo sono subentrati aspetti di natura diversi lasciamo perdere gli ultimi mesi con lo spread che rende più complicato il ricorso al credito bancario però le normative comunicali in particolare la vigilanza bce della banca europea fa sì che il credito venga dato dalle imprese dalle banche italiane avendo molta attenzione al fatto di non correre rischi cioè alla sicurezza di colui che riceve il credito e quindi nemmeno le garanzie che sono sicuramente importanti per avere credito ma anche proprio la capacità di restituire il credito i soldi che l'imprenditore prende in tempi certi e non troppo lunghi e questo è un cambiamento di status che messo insieme a qualche problema della nostra banca di riferimento banca banca carige ha creato una qualche difficoltà anche perché non bisogna mai dimenticare che il 96 per cento delle nostre aziende ha meno di 10 addetti cioè stiamo parlando di micro imprese micro piccole e medie imprese dove le micro e le piccole sono la stragrande maggioranza e per questo tipo di impresa è strutturalmente più complicato rivolgersi al credito perché poi alla fine non sono patrimonializzate a sufficienza e spesso è l'imprenditore che in prima persona deve metterci del suo per andare a garanzia però negli ultimi questo 2018 il credito ha ripreso salire salito di un paio di punti percentuali anche perché poi comunque non dimentichiamo che il credito va a braccetto con l'andamento dell'economia se l'economia tira gli imprenditori ricorrono più facilmente al credito perché il volano economico consente non solo di restituire i soldi ma anche perché si crea il bisogno di poter fare investimenti piuttosto che acquistare scorte piuttosto che insomma coprire il normale ciclo economico finanziario dell'impresa quindi c'è possibilità di aver credito bisogna che le banche locali continuino poter svolgere il loro ruolo perché hanno un'attenzione più mirata alla realtà del territorio e alle condizioni alle quali operano le imprese del territorio questo consente di stare lontani dai parametri finanziari che vengono utilizzati da determinati istituti per il credito che rischiano di mettere le nostre imprese che per loro debolezza finiscono fuori mercato Lei ha fatto un riferimento anche importante alle necessità di avere taluna e professionalità e a una scuola probabilmente che è un'università che in questo momento non riescono a entrare in sintonia forse ecco che cosa è possibile fare nel senso che io vedo che ogni tanto ci sono questi scambi di opinioni e di progetti anche di progettualità tra l'impresa e l'università ma forse non è ancora sufficiente e bisogna partire anche prima dell'università nel senso che c'è bisogno di più contaminazione tra mondo della scuola e mondo dell'impresa bisogna che i giovani il mondo scolastico capisca che deve entrare nelle imprese far vedere ai giovani già fin dalla seconda media che è l'anno in cui poi i ragazzi scelgono il percorso di scuola media superiore che affronteranno da due anni dopo per farli rendere conto di che cosa c'è in modo tale che loro scoprano cose che non conoscono non conoscono quasi mai noi abbiamo delle iniziative quindi stiamo parlando di esperienze vissute sul campo e però quando conoscono e quando li si guida a capire bene cosa c'è dietro a un'impresa dietro cancello di un'impresa dietro il volto di un imprenditore che ci sono dei collaboratori c'è un sistema di produzione ci sono delle esigenze che vanno dall'ambiente che vanno dall'ambiente alla produttività e al tipo di prodotto come si lavora dentro un'azienda e quali possibilità anche di carriere che ci possono essere perché a volte anche ci sono piccole imprese se uno è bravo ha possibilità di crescere sia dal punto di vista economico che dal punto di vista professionale e allora questa contaminazione tra scuola e lavoro va fatta c'era già una riforma della scuola che ha previsto di aumentare il numero di ore noi come camera di commercio sosteniamo sia le imprese che ricevono questi ragazzi in stage sia i giovani e le scuole che si prestano a questi percorsi diamo aiuto in tutti i modi adesso le cose stanno cambiando di nuovo però se non si realizza una conoscenza completa e strutturata cioè profonda per i giovani è difficile convincerli a prendere dei percorsi formativi che magari a prima vista per loro non sono quelli migliori però da questo punto di vista la camera commercio appunto che ha un osservatorio particolare può corroborare questi percorsi no? No noi l'anno scorso abbiamo portato e lo faremo di nuovo nel 2019 cioè quest'anno 2018 abbiamo portato più di 1500 ragazzi di scuola media a vedere il contesto economico produttivo dei territori abbiamo portato 500 studenti delle scuole superiori a capire cosa vuol dire commercio cioè cos'è il negozio cos'è il negozio perché il giovane deve imparare a acquisire una mentalità che lo porta a capire cosa c'è dietro quello che vede quando entri in un negozio anche quando entri in un bar quando entri in un bar il problema non è prendere il caffè o fare il videogioco se uno comincia a pensare cosa c'è dietro da quando si apre la strada ceresca al mattino quando si chiude la sera gli acquisti come trattare i clienti farsi conoscere la qualità dei prodotti la qualità del servizio ecco questi elementi devono diventare di uso comune diciamo così per i nostri ragazzi bisogna fare uno sforzo tutti quanti per insegnare loro queste cose se loro rifletto un attimo è difficile parlare di parlare di giovani e dice riflettono sì questi non sempre connessi col telefonino almeno la maggior parte di loro e fanno a volte sono impensabili però bisogna insistere bisogna spingere perché poi si ottengono i risultati certo un rapporto allora con i giovani che vogliono entrare sul lavoro ma ora un rapporto anche con le piccole e medie imprese che come diceva lei sono quelle più numerose sul nostro territorio per queste piccole e medie imprese gli addempimenti diventano sempre più complicati sempre più complessi sempre più difficili da attuare anche sotto questo profilo le camere di commercio in qualche modo a partire dal ragionamento della fatturazione digitale quant'altro stanno operando in maniera da dare un sostegno a queste imprese si noi abbiamo anche dei servizi proprio nostri che possono essere utilizzati dalle imprese o dai professionisti che li aiutano a svolgere i loro compiti perché appunto dal primo di gennaio entra in vigore la fatturazione elettronica e sarà un problema non da poco però ad esempio la gestione dei libri contabili fatta all'interno in via in forma digitale permette di fare la vidimazione dei libri presso la camera di commercio che è una cosa obbligatoria che una volta si faceva con un carico di 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 pacco di arrivare lì si faceva il timbro l'appuntamento il timbro il parcheggio no tutto questo si può fare da casa per esempio ma soprattutto oramai tutti cal tutta la pubblica amministrazione pensiamo l'ufficio delle entrate pensiamo l'inps è raggiungibile telematicamente e da questo punto di vista più imprese sono diventano clienti telematici di queste amministrazioni più queste amministrazioni sono spinte a diventare sempre più efficienti questo può essere un grande aiuto per le imprese perché poi la digitalizzazione permette anche di superare alcuni passaggi banali normali burocratici manuali che non hanno davvero ragione di esistere perché poi arriverà un momento in cui la semplice consultazione delle banche dati dovrebbe permettere di evitare anche tante dispersioni di tempo adesso capita che lo stesso documento tre o quattro amministrazioni te lo chiedono tutti lo stesso documento chiedono alla stessa impresa che non lo chiedono no e invece quando ci sarà messo a punto questo sistema digitale l'impresa verrà disturbata una volta sola e arriveremo verso un mondo in cui le perdi dei tempi inutili e le sconciature perché quando lo chiedono la terza volta lo stesso documento diventa la sconciatura la prima volta capisco perché è una tutela della legalità quindi anche una tutela dell'impresa oltre che del consumatore ma quando tutte le amministrazioni pubbliche ti chiedono per la terza o quarta volta lo stesso documento diventa la sconciatura certo dottor pasquale mentre ne parlava anche questo ultimo questo ultimo passaggio che ha fatto su il consumatore ecco il ruolo della camera di commercio nei confronti del consumatore anche qui è uno sportello che è aperto anche per i consumatori per qualche tutela c'è esiste noi abbiamo andando rappresentanti dei consumatori nel consiglio camerale e questo per per legge poi noi svolgiamo un ruolo importantissimo di regolazione del mercato regolazione del mercato non è solo il registro imprese ma regolazione del mercato e anche i timbri sulle bilanze per dire i controlli che facciamo perché la bilancia che deve pesare il prosciutto dal salumaio sia effettivamente tratta per pesare un letto di prosciutto per quello che lo dico per fare l'esempio banale e poi siamo esercitiamo la vigilanza sui prodotti a denominazione d'origine sia olio che vino che altri prodotti basilico e noi diamo la nostra certificazione è quella che garantisce al consumatore che quel prodotto è stato è stato realizzato nelle condizioni giuste previste da un disciplinare con tutte le norme ambientali soddisfatte e con tutte le condizioni al contorno in regola quindi da questo punto di vista abbiamo una direi un ruolo proprio per legge fondamentale di regolare il mercato di regolazione del mercato che esercitiamo in tutte le forme che ci vengono richieste quindi una camera di commercio che ha stretto rapporto con il territorio e allora adesso io le pongo una domanda questa riorganizzazione che in qualche modo teoricamente ha allontanato un po' la camera di commercio che eravamo abituati ad avere ogni città la propria camera di commercio ha creato più opportunità nel senso creando forse sinergia o più problematica allora tutte e due la riforma era necessaria delle camere di commercio era necessaria la riforma che è stata fatta è una riforma sbagliata perché è stata intanto troppo rigida poi è rimasta avulsa no perché è partita in un momento in cui tutto stava per essere riformato le province dovevano scomparire le prefetture dovevano aggregarsi no siamo partiti in questo scenario è successo che poi l'unico che ha fatto le aggregazioni che ha fatto la riduzione l'ultimo decreto legislativo è del mese di agosto delle di quest'anno che abbiamo ridotto le camere di commercio da 106 107 quelle che erano a 60 con un po di rigidità e allora in liguria non potendo aggregarci fuori regione e dovendo comunque avere un tetto minimo di imprese a registro di 75 mila non c'era altra possibilità che mettersi insieme tutti e tre nessuna delle tre savona imperia e spezia poteva stare da sole nemmeno a due a due e la scelta che è stata fatta era quella di aggregarsi in modo tale da tutelare quella metà di liguria che ha caratteristiche molto omogenee molto simili legate dall'economia del mare da tutta un'altra serie di fattori e quindi abbiamo creato questa questa altra camera di commercio che si chiama riviere di liguria e che ha portato a una razionalizzazione in termini di struttura quindi contenimenti di costi e razionalizzazione ci sono stati purtroppo la parte peggiore di questa riforma è che hanno ridotto i nostri ricavi che sono il diritto annuale che pagano le imprese che vale mediamente 90 euro e l'hanno ridotto il 50 per cento quindi l'hanno ridotto di ben 45 euro che per un'impresa vuol dire meno di un caffè alla settimana per noi vuol dire 7 milioni di euro che ci mancano per sostenere l'economia dei nostri territori quindi anche le attività non solo il personale di gestione perché avete fatto anche parecchie attività si adesso l'attività che stiamo continuando a fare finché potremo avremo utilizzare gli avanzi patrimonializzati e qui le cammi di commercio sono enti che vivono da 150 anni prima ancora delle province stabilite dalla costituzione e hanno stratificato patrimoni hanno stratificato ragioni storiche hanno stratificato esperienza conoscenza e tra questo c'è anche un pochino di scorte di riserve che adesso stiamo utilizzando ma se non cambiano le cose noi ci troveremo presto in una situazione in cui dovendo far fronte ai doveri d'ufficio quindi registro imprese regolazione del mercato e pagati gli stipendi e pagati i costi di funzionamento non ci resteranno le risorse adeguate per intervenire a sostenere le economie e le imprese e questo è un rischio che speriamo venga in qualche modo recepito dal legislatore e questo ci consenta di riprendere. Come vi state muovendo in questo senso? Con quali strategie? È in corso un dialogo con il nostro organo di sorveglianza e il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi c'è un dialogo che ha portato già l'anno scorso ad avere un recupero del 10% di questo diritto camerale dedicato specificamente a rapporto scuola-lavoro e economia 4.0 quindi noi stiamo facendo interventi con quel surplus che abbiamo potuto applicare. Io penso che la strada sia quella di avere, perché poi sono soldi delle imprese, il diritto camerale come dicevamo è pagato le imprese, non sono soldi che lo Stato è l'estanziale. E allora se per le imprese è abbastanza, stiamo parlando di cifre enormi, stiamo parlando di 50 euro. Non sono quelli che modificano il bilancio aziendale. E allora la cosa importante secondo me è che il governo e il sistema del camere di commercio diventino partner, cioè decidono insieme per esempio sulla digitalizzazione che c'è da fare un investimento notevole. Noi siamo anche capillari, siamo una struttura diffusa sui territori e allora potrebbe essere uno di quei settori, uno di quei campi, quei banchi di prova dove si aumenta un po' il diritto camerale, ma le camere di commercio diventano un partner del governo per raggiungere determinati obiettivi. E allora lavorando su queste basi non è che ti do i soldi fanno quello che vuoi, ma decidiamo insieme un progetto che va sostenuto e sono poi gli imprenditori nel loro piccolo sostenerlo. Bene, dottor Pasquale, ci avviamo verso la conclusione di questa bella chiacchierata, ma speriamo di avere altre occasioni. E allora chiudiamo un po' con un auspicio, una raccomandazione che lei farebbe a questa economia ligure per vedere di uscire fuori un po' anche dalle difficoltà. Ora lei diceva che la situazione spezzina è un po' più rosea di quelle delle altre province, ma insomma credo che di qualche consiglio ne abbiamo bisogno a tutti. Qual è la raccomandazione che lei vorrebbe fare alla nostra economia? La raccomandazione all'economia non è facile. Io la prima raccomandazione che farei un po' a tutti anche a me stesso. Noi abbiamo 98 mila imprese a registro imprese, quindi sui territori di Spezia, di Savone e di Imperia ci sono 98 mila imprenditori e manager che tutte le mattine si alzano, vanno in azienda e cercano di fare meglio di quello che hanno fatto il giorno prima. Questa qui è un'energia straordinaria che va presa in considerazione, non può essere dileggiata come a volte succede, bisogna considerare che questo qui è una forza che abbiamo e quindi bisogna rispettarla prima di tutto, ma soprattutto aiutare questo mondo, perché è quello che poi crea il lavoro, perché poi insieme a questi qua ci sono tutti i collaboratori che prendono lo stesso spirito e quindi questa è una raccomandazione che farei a tutti. La raccomandazione che farei invece più specificatamente agli imprenditori della Liguria è dire che noi viviamo in un territorio che ci dà opportunità molto interessanti, 4-5 generazioni siamo diventati ricchi, siamo quelli che hanno il patrimonio medio per famiglia in Liguria e tra i più elevati d'Italia. Allora non sediamoci sul passato, investiamo sul futuro, creiamo delle opportunità, valutiamo bene i nostri punti di forza e lavoriamo a farli diventare ancora migliori, penso alla dieta mediterranea, penso alla blu economia di cui abbiamo parlato stamattina, su quelle cose lì noi dobbiamo diventare dei riferimenti a livello nazionale e internazionale, perché lì troviamo a soddisfazione professionale, b creazione di valore, c terzo creazione di lavoro e poi alla fine la soddisfazione per lasciare ai nostri figli una regione, un'economia e una situazione sicuramente ancora migliore di quella che i nostri genitori, i nostri doni hanno lasciato a noi e che in Liguria non dovremmo mai dimenticare tutto quello che è stato fatto, perché davvero, anzi a volte alcune delle nostre debolezze, tipo la scarsa protezione al marketing, vengono proprio dal fatto che in passato, negli ultimi 60 anni non c'è stato bisogno di fare il marketing, c'erano più quelli che venivano e quelli che ci stavano, parliamo del turismo oppure delle navi che venivano nei nostri porti, che vengono nei nostri porti e dobbiamo capire che adesso la competizione è globale, bisogna essere competitivi a livello internazionale, sia dal punto di vista del porto, sia dal punto di vista del turismo, sapere che la gente può venire qui come andare in qualsiasi altra parte del mondo, siamo noi che dobbiamo avere la capacità di fare in modo che la destinazione nostra, sia una destinazione dove la gente viene perché sceglie di venire da qualunque parte del mondo, così come da qualunque parte del mondo capiscono che qui siamo bravi nella cantieristica e allora ci sarà un motivo per venire qui e cercare di capire come facciamo e soprattutto acquistare magari i nostri prodotti, noi dobbiamo puntare a rafforzare l'esportazione, questo vale per tutto il paese, rafforzare l'esportazione e l'internazionalizzazione vuol dire vendere prodotti e servizi e importare valuta, questo è indispensabile per un paese come l'Italia. Siamo partiti citando le Camere di Commercio come osservatorio particolare sull'economia e oggi proprio dall'alto di quell'osservatorio le faccio l'ultima domanda, possiamo sperare in un futuro migliore oppure abbiamo di fronte solo preoccupazioni sulle quali dobbiamo metterci a lavorare solo? Le preoccupazioni non vanno mai trascurate, non vanno mai accantonate, bisogna affrontarle, di affrontarle con coraggio, però io penso che noi abbiamo tutti gli elementi per superare le preoccupazioni, ci vuole tanto lavoro e bisogna anche avere attenzione ai segnali deboli, corare tutti gli aspetti positivi che incontriamo come imprenditori e come famiglie per tirar fuori come si dice qualcosa di nuovo. Guardi, parlavamo di giovani prima, tanti anni fa a Savona è venuta da me una professoressa dell'istituto tecnico e mi ha detto, sa, ci sono dieci ragazzi dell'istituto tecnico che fuori dall'orario scolastico vengono a fare gli esperimenti di fisica in laboratorio, possiamo aiutarli in qualche modo? Io mi ricordo che gli devi una mano, questa associazione esiste ancora oggi, si chiama Giovani per la Scienza, sono diventati più di 100 ragazzi che vanno a fare gli esperimenti di fisica fuori dall'orario di scuola, quando si sono diplomati e sono andati all'università, adesso lavorano nelle migliori università europee come ricercatori, per dire, uno poteva pensare al luogo comune dei giovani che sono viziati moderni e come diceva quel ministro, un po' mammoni, no, bisogna sempre avere fiducia, bisogna avere fiducia e saper cogliere dal segnale anche deboli le potenzialità, siccome noi di potenzialità in Liguria ne abbiamo tante e allora c'è solo da fare scouting, per lavorare, per farle venire fuori e per dare a tutti la possibilità di crescere. Dottor Pasquale, noi la ringraziamo, questo è il miglior auspicio che lei poteva darci, la miglior speranza per il 2019 e anche alle Camere di Commercio delle riviere Ligure facciamo altrettanto auguri che sia un 2019 foriero di successi e di cose importanti. Naturalmente da parte nostra auguri di buone feste a tutti, grazie a voi.